Io sto tremando dall'emozione perché non mi capita tutti i giorni di parlare in una piazza e in una piazza così colma di persone. Parlo di quello che in questa piazza è successo, di quello che c'è. La linea che noi vediamo, ossia la parte ricoperta di pietre tagliate e colorate, è più o meno alla stessa altezza di tutti gli altri edifici della piazza. E così, senza volere, e per mancanza di quattrini, questa piazza, anche su quel lato, si armonizza con tutto il resto. Perché alla sera, come adesso, la parte non compiuta, non rivestita, diventa scura, buia, così come buia è la notte e non la si vede più.